Musica Presentato il nuovo ufficio di presidenza del Consiglio regionale Ius Scole dibattito in aula Relazioni annuali del difensore civico e del garante dei detenuti Nuova edizione di Consiglio News ben ritrovati Presentato il nuovo ufficio di presidenza del Consiglio regionale Il presidente Davide Nicco e i componenti hanno illustrato idee e progetti per i prossimi 30 mesi nell'ambito delle rispettive deleghe Il Consiglio regionale si farà parte attiva per rispondere ai bisogni dei piccoli comuni piemontesi rafforzerà le tante iniziative rivolte a giovani e studenti e continuerà a seguire e a combattere il fenomeno dell'usura promuovendo il supporto ai cittadini sovraindebitati Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo ufficio di presidenza dell'ente legislativo subalpino sono emerse le diverse linee programmatiche per i prossimi 30 mesi annunciate dai componenti in rappresentanza di maggioranza e opposizione Stare molto vicino ai cittadini attraverso la vicinanza alle amministrazioni comunali ed in particolare alle amministrazioni comunali dei piccoli comuni Io credo che i sindaci dei piccoli comuni siano un po' gli eroi della politica locale sono quelli che stanno in trincea, sono quelli che stanno vicino ai cittadini Se questo ufficio di presidenza saprà stare vicino ai sindaci potrà recepire tutte quelle esigenze della cittadinanza e portarle all'attenzione sia del Consiglio regionale che della Giunta regionale A Francesco Graglia, vicepresidente, la delega per la consulta europea Ci sono dei progetti da portare avanti che sono assolutamente importanti perché coinvolgono i nostri giovani, coinvolgono 200.000 studenti L'Europa c'è quindi bisogna conoscerla L'altro vicepresidente, Domenico Ravetti, si è soffermato sulla sua delega al Comitato Resistenza e Costituzione Per entrare in relazione con la società civile, soprattutto con le nuove generazioni per diffondere la memoria di quegli anni soprattutto per conservare e rendere viva l'insieme dei valori della resistenza della Costituzione Il consigliere segretario Fabio Carosso, con delega agli Stati Generali della Prevenzione e del Benessere al Consiglio delle Autonomie Locali e al Bilancio del Consiglio e Patrimoni si è soffermato sull'importanza di rivolgere l'attenzione ai giovani il 20% dei quali soffre di ansia e depressione La parola d'ordine è felicità quindi i ragazzi devono tornare a essere felici, ognuno nel suo modo perché ogni ragazzo e ragazza hanno un carattere diverso, hanno compagnie diverse organizzeremo sicuramente una serie di eventi porteremo questi ragazzi a confrontarsi i momenti importanti dedicati a loro farli sorridere e farli tornare a casa felici Alla consigliera segretaria Valentina Cera le deleghe a Forum dei Giovani, Consulta Femminile e Consulta delle Lette Questo ufficio di presidenza vuole andare a parlare con le nuove generazioni proporre progettualità che parlano di cittadinanza attiva di memoria, di impegno, di partecipazione alla vita pubblica Mario Salvatore Castello, consigliere segretario si occuperà del Comitato regionale per i diritti umani e civili dei rapporti con Difensore Civico e Garanti del Corecom, del sistema informativo e degli incarichi e consulenza per gli organi di direzione politica Ci vogliamo impegnare perché per dare voce alle persone bisogna fare in modo che si avvicinino alle istituzioni e questo si può fare solo mettendo cuore, entusiasmo e passione Al termine è intervenuta Elena Cappai dell'Ufficio Scolastico regionale che ha sottolineato l'importanza dei concorsi per le scuole del Consiglio Il concorso di storia contemporanea, quello di cittadinanza europea e ambasciatori del Consiglio regionale L'importanza è quella di restituire un significato attivo e consapevole agli studenti di quelle che sono le attività della regione Piemonte e dell'educazione alla cittadinanza veicolate insieme attraverso questi bandi Lo Ius Scole è al centro del dibattito in aula ha respinto un ordine del giorno, affirma Gianna Pentenero, Partito Democratico Un ordine del giorno che sa di sfida Non dovremmo utilizzare temi così importanti per cercare di dividere l'avversario Così il presidente della regione Alberto Cirio in aula ha aperto il suo intervento sul dibattito relativo all'ordine del giorno riconoscimento dello Ius Scole, quale requisito per la cittadinanza italiana presentato da Gianna Pentenero, capogruppo Partito Democratico respinto a maggioranza con 29 voti contrari e 19 favorevoli Un ordine del giorno che pone due temi su cui tutto il centro-destra è compattamente contrario cioè uno il riconoscimento dello Ius Soli perché qui si parla dello Ius Scole per arrivare allo Ius Soli cioè tu sei cittadino del posto in cui casualmente sei nato e noi su questo da sempre siamo contrari ritenendo che la cittadinanza è un processo di integrazione e poi parla di cinque anni noi, e qui parlo per Forza Italia, riteniamo che possa aprirsi un dibattito sulla possibilità del riconoscimento della cittadinanza se tu hai fatto almeno dieci anni di scuola in Italia e perché dieci anni? Perché sono gli anni della scuola dell'obbligo dei cittadini italiani L'ordine del giorno poteva essere emendato, l'ordine del giorno poteva essere riscritto sostanzialmente non c'è nessuna volontà di affrontare questioni che hanno un carattere di civiltà all'interno della nostra regione e del nostro paese e un carattere anche quasi emergenziale Assistenza agli anziani e liste d'attesa queste le maggiori criticità segnalate dal difensore civico della regione Piemonte nel corso della relazione annuale in aula Delle oltre mille segnalazioni presentate dai cittadini all'ufficio del difensore civico tra il 2022 e il 2023 più della metà riguardano disservizi e inefficienze della sanità in particolare sui percorsi di continuità assistenziale per le persone anziane non autosufficienti e sulle liste d'attesa queste le maggiori criticità rilevate da Paola Baldovino difensore civico regionale che ha svolto in aula la relazione sull'attività Cercare di trovare soluzioni per le liste d'attesa magari prevedendo anche un sistema di presa in carico della richiesta dell'utente che quindi non sia l'utente che debba provare quotidianamente per trovare posto per poter così dare luogo alla visita a cui ha diritto ma che sia il sistema a prendere in carico il cittadino questioni che vengono sollevate all'ufficio attengono anche in materia di istruzione e quindi la carenza di docenti di sostegno specializzati e anche la difficoltà nel garantire per i bambini disabili per i studenti disabili una continuità didattica Nel corso del dibattito che è seguito alla relazione Alberto Avetta, Partito Democratico ha sottolineato che la relazione si sofferma sull'impossibilità di avere informazioni sui tempi di attesa portando il cittadino a rinunciare alle cure ciò è sintomo di un modello che non sta funzionando Per Silvio Magliano, lista Cirio serve una riforma per ampliare le competenze e la capacità di azione dell'istituto del difensore civico Paolo Ruzzo, la Forza Italia, ha rimarcato che il difensore ha un ruolo importante nel facilitare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione anche attenuandone le conflittualità In aula anche la relazione del garante dei detenuti Riavviare e valorizzare la cabina di regia tra istituzioni e potenziare le risposte sulla sanità penitenziaria e fare sistema con le politiche attive del lavoro la formazione professionale, la scuola e i progetti avviati con il privato sociale e il territorio Sono le richieste formulate dal garante regionale delle persone detenute Bruno Mellano nel corso dell'illustrazione in aula della relazione annuale È importante avere un quadro io ho cercato di rappresentarlo del sovraffollamento, dei suicidi delle problematiche legate al lavoro e alla mancanza di personale però il mio obiettivo di oggi era proprio di in un dialogo concreto con l'istituzione regionale di spiegare quello che noi possiamo fare qui e oggi per aiutare l'amministrazione penitenziaria nel suo compito delicato di fornire un servizio esecuzione penale in carcere costituzionalmente orientato Il dibattito è stato aperto da Domenico Rossi intervenuto per il Partito Democratico con Nadia Conticelli ed Emanuela Verzella che ha sottolineato come occorra puntare sul lavoro formazione perché più le persone hanno titoli di studio elevati meno hanno possibilità di andare in carcere Roberto Ravello, fratelli d'Italia ha rivendicato che il Piemonte con la rete dei garanti comunali è tra le regioni più avanzate d'Italia è dichiarato la contrarietà ai indulti amnestie e abolizione delle carceri minorili Gianna Gancia, Lega, si è soffermata sulla questione delle persone con disagio mentale sottolineando che dobbiamo fare in modo che chi ne soffre venga curato ma non nel sistema carcerario soprattutto per chi ha commesso reati minori sopra luoghi in tutti i territori del Piemonte dove si registrano i maggiori disagi nel trasporto pubblico locale in particolare quello ferroviario per migliorare i servizi e questo è l'obiettivo della seconda commissione sentiamo il presidente Mauro Fava e le vice presidenti Nadia Conticelli e Marina Bordese i trasporti in Piemonte in questo momento stanno attraversando dei momenti un po' critici ma noi cercheremo di lavorare tra tutta l'assemblea di commissione proprio per andare a monitorare e cercare di dare le prime risposte positive agli utenti il primo tema su cui chiederemo di poter avere approfondimenti sono gli abbonamenti per studenti il bonus trasporti e soprattutto l'integrazione ferrogomma su cui il Piemonte è piuttosto in ritardo si lavorerà sui trasporti si lavorerà sull'urbanistica perché comunque è la maglia su cui si muovono i trasporti si lavorerà sulle opere pubbliche e sono quelle che servono poi per anche far andare avanti i trasporti e creare le infrastrutture su cui possono viaggiare i nostri trasporti per cui è tutto un insieme collegato e interdisciplinare Il tennista Andrea Vavassori e le pallavoliste della Union Volley a Palazzo Lascaris Il presidente e il vice presidente del Consiglio regionale Davide Nicco e Domenico Ravetti con il componente dell'ufficio di presidenza Fabio Carosso hanno incontrato a Palazzo Lascaris il tennista piemontese Andrea Vavassori A nome del Consiglio regionale del Piemonte il presidente ha consegnato a Vavassori l'attestato di ambasciatore degli stati generali della prevenzione e del benessere della regione Piemonte è una spilla con il simbolo della regione Spero di dare un bel messaggio ai giovani che stanno crescendo in uno sport molto sano molto pulito che può far bene a tutte le nuove generazioni ho visto che anche grazie a un po' questo chiaramente ci rende felici Ricevute in sala di Lione dal presidente Davide Nicco e dalla consigliera segretaria Valentina Cera anche le giovani sportive della Union Volley Pinerolo Villa Franca che militano nella serie A1 anche a loro a nome del Consiglio regionale del Piemonte il presidente ha consegnato un attestato di ambasciatore degli stati generali della prevenzione e del benessere della regione Piemonte è una moneta con il simbolo della regione Sicuramente lo sport fa rivelare un po' il carattere che hai la determinazione per esempio e sono i valori che poi ci sono stati riconosciuti dalla targa che ci è stata data oggi Per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti